bella architramanismo in grana, siamo tornati con un nuovo episodio di Backwards ovvero delle parole al ointraicrot sii o meno, siamo qui con Backwards che mi è piaciuto tanto, quindi ve lo rifacciamo un'altra volta se lui è il campione e io sono la chiappa la schiappa la schiappa e niente va no, eeeh vabbè ma abbiamo tempo guarda, si no, sto pensando calendario calendario tu hai detto calendario quanto volta lo devi vedere al contrario vai 1, 2, 3, vai oiradek ka oiradek ka è preciso è l'endario è l'endario è l'endario è leggendario è leggendario vai eeeh 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 vai al contrario eeeh eeeh a te per l'azzo, no cazzo dai non mi è venuto non mi è venuto scarpetta il campione e vai fai dirlo e non dillo dai rifallo ah devo parlare bella mi è piaciuta mi è piaciuta scarpetta l'ha detto io non l'avete sentito anche voi si scarpetta si computer no però le cose che finiscono con i consonanti eh ho capito hai detto computer computer vai dai red mob giusto c'è stavo quasi dai c'è avuto tipo una paralisi c'è avuto una paralisi per il tracco ahahahahahah carriaco bar il padre a sbizia parezzi xd penso sbizia ha capito ma non via la zeta sviszera 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 russidi va svizzere orologio si ciao dai ragazzi dai su ma non puoi temporeggiare così ogni volta orologio aspetta orologio hai detto orologio orologio o iii lo so davvero no cambio dai 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 orologio 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 cazzo le socie orologio l'olio 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 telecomando telecomando vai si ma ho tutto il tempo mamma mia che fenomeno mamma mia che fenomeno ti senti hai fatto telecomando ho fatto telecomando sono fenomeno vai 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 tocca a te e allora facciamo ma fa un culo calendario lo stava scritto per forza ho letto la orologio orologio papastadopulo si si so papastadopulo papastadopulo ma che papastazzino sto cazzo dai uomo fammere davvero supercalibra genestiche spirali oh ancora mi ti fai cose più semplici tipo bastone fazzoletti oh è troppo lunga fanzoletti un attimo uno due tre vai clicca pezzo di merda ziti dai fazzoletti itelosafal dai su itelosafal non è così però va bene era merda ma la lì supportato supportato vai portato ho o l'uomo po no no mai si ah ah ahahah fatti il popolo no vabbè è brutto non è un portato non è un portato grand theft auto c'è vero veramente c'è una cosa impossibile su allora faccio fifa a troppo facile p si però troppo facile appicolo roma roma per l'ultimo si fa il funcio perciò.com conflitto ha detto conflitto e' vero la parte allora conflitti allora la parte conflitti cd Q U V E E 1 Non mi hai ricontato No Non ti fai concentrati E E YouTube E Cazzo Che cazzo Aspetta Ci ho riprovato E 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 Fiuviere Fiuviere Ma se non me o Forco del Troppo E Fai quadretti Ma io non so il camion Dai su Tre piedi Tre piedi Mi ha fatto Fiuviere 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 i tre e i tepp no ha detto pedretti ha detto pedretti pedretti erdi erdi eh per noi erdi e poi i tre capito a comprare i diepp erd cos'è ma tre piedi ah no i dei e poi vedi invece i dei pollicioni pollicione si pollicione 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 il mio grattacielo mio pollicione mio pollicione io direi i tutti ciao a tutti ciao a tutti ovviamente c'è un aspirapolvere dentro la mola e niente ragazzi se vi è piaciuto questo video lasciamo 5 di like e se vi è piaciuto se vorreste rivederlo in futuro commentate qua sotto e vi dici altre sfide che vorreste vedere da noi se non vi siete ancora iscritti al canale iscrivetevi e in descrizione ci sono i nostri instagram e il nostro pagina facebook il nostro pagina facebook ovviamente mi ha insegnato molto bene usare gli articoli e i generi maschili e femminili dai grazie a tutti bella